Ciao e benvenuti a questo video, oggi vedremo come fare a creare un'applicazione per la gestione delle note, semplici note, utilizzando Spring Boot. Realizzeremo soltanto la parte di back-end, per la parte di front-end ci recupereremo diciamo in altri video successivi. Oggi siamo focalizzati solo sul back-end e solo su Spring Boot, quindi prima cosa come fare a usare Spring Boot da Eclipse. Eclipse, molto facile, vado dentro a help, apro il marketplace di Eclipse e qua possiamo andare a cercare Spring. Ok, cerchiamo Spring, se vediamo ecco c'è questo Spring Tools 4 da installare, io l'ho già installato ma qua basta cliccare su install e dire ok, avanti, avanti, avanti e ve lo trovate installato. Installato il plugin, possiamo creare il nostro progetto. Allora, come prima cosa andiamo nel file e scegliamo un nuovo progetto. Scegliamo un progetto di tipo altro e tra tutte le opzioni scegliamo, c'è la zona Spring Boot, la sezione Spring Boot, scegliamo Spring Starter Project. Cos'è questo Starter Project? Lo Starter è un sito web, in realtà è in vero, da cui io posso creare il file di Maven per inizializzare il mio progetto. Cos'è Maven? È uno strumento di gestione delle dipendenze per Java, fondamentale, quando si sviluppano progetti un po' complessi. Allora, faccio Next. Lui mi dice, come chiama il tuo progetto? Qua c'è un progetto già fatto, prova 0.1. Ok. Io il gruppo lo chiamo com.ap, le ap sono le mie iniziali, prova 0.1. Qua ho messo la versione di Java 11, si può mettere anche 8. Impostato così, scendiamo in basso e facciamo Next. Qua c'è la parte che a noi interessa, la parte dove andiamo a scegliere i componenti di Spring Boot che andremo a utilizzare nel nostro progetto. In particolare, noi servirà Spring Web, lo trovi qua dall'elenco, ma i quali ho già utilizzati, quindi sono qua. Poi ci servirà il driver MySQL, perché vogliamo accedere i dati che stanno sul server MySQL. Spring Data GPA, che ci consentirà di mappare classi Java in tabelle MySQL, in righe di tabelle MySQL. E l'Homebook, che è una libreria che ci consente di lavorare in modo più facile, visto che ci generano automatico i getter, i setter e un po' di altre cose per le nostre classi. Faccio Next e faccio Finish. Allora, adesso per andare a configurare il nostro progetto, andiamo qua. Qua abbiamo i nostri file. Dobbiamo per prima cosa andare a configurare la connessione al database. Lo facciamo dove? Dall'application.properties, dentro a Source, Main, Resources. L'application.properties, fino a si apre, eccolo qua, è un file, vuoto per adesso, che contiene tutte le impostazioni dell'applicazione. In particolare, noi servono quattro righe fondamentali. Le leggiamo assieme. La prima dice ad Hibernate, che è il componente che fa la mappatura delle tabelle sulle classi e delle classi sulle tabelle, di fare l'update su DLL. Ciò vuol dire che se io genero un'entità che non esiste nel database, in automatico JPA e Hibernate la generano. Va bene. Dobbiamo recuperare la nostra data source. La nostra data source è tipo JTBC, Amen, MySQL, l'host per me è 192.168.1.235. Il database lo chiameremo DB notes. Non l'abbiamo ancora, per cui vabbè. L'utente è Pollini e la password è Pippo. Vabbè, non è esposta all'esterno, non preoccupate. Allora, abbiamo fatto questo. Adesso andiamo all'interno della DHP My Admin. Posso creare un nuovo database. Lo chiamo DB notes. La codifica dei caratteri sarà UTF8 UTF8 General C Creiamo Ok Non creiamo nessuna tabella, creiamo soltanto il database. Cioè DB notes, un utente password sono quelli lì. Adesso dobbiamo avviare il nostro progetto. Per avviare il nostro progetto, cosa dobbiamo fare? Clicchiamo qua su questo simbolino, sulla boot dashboard. Da qua gestiamo i nostri i nostri progetti Spring Boot. La boot dashboard è questa. Vedete che c'è local perché è l'installazione locale. Potrei avere anche cose sul cloud, ma a noi adesso non mi interessano. Clicco su prova 1, clicco col destro e scelgo restart. C'è il ritratone, quindi se non è startato faccio restart e lo faccio andare. E' fatto. Non ci è dato errori, quindi si è configurato. Non abbiamo ancora fatto nulla in realtà, per cui dobbiamo andare a configurare tutto adesso e in particolare andremo a definire le nostre entità. Allora, adesso possiamo andare nella parte source dove c'è la nostra applicazione. guardiamo come è fatta l'applicazione di Spring Boot è una normalissima classe con una notazione. Questa notazione dà una serie di informazioni. Allora, ad esempio, io adesso creo la classe per le note e vediamo che semplicemente che ho una classe nota vuota e finisco. In realtà sarebbe note. Sì, forse è meglio. Quindi facciamo refactor rename e la chiamo note. Questo mi rinomina il file, mi rinomina la classe, fa tutto lui. Adesso dobbiamo iniziare con le notazioni. Le notazioni cosa ci servono? Le notazioni ci servono per dire che ruolo ha questa classe all'interno del mio sistema. Ad esempio, io voglio che questa classe rappresenti un oggetto che viene mappato su una tabella che sarà poi la tabella che si chiama come la classe tutta minuscola. Per far questo basta che io la dichiari come entity. Dichiarata come entity e le dico guarda che questa cosa qua è una cosa che io voglio che venga mappata. Va bene. Adesso avrò una private un id ok? Long id Allora, posso andare a dire a JPA quindi a quel componente che si preoccupa di fare la mappatura che questo qua sarà un id lo annoto con id e lo annoto anche con generated generated value ok? Cosa gli sto dicendo? Guarda che questa variabile distanza è la chiave primaria e è un valore generato dal server ok? Adesso definiamo il resto quindi quel resto in una nota avremo il titolo e il contenuto ok? private string title title e poi private string content adesso dovrei mettermi a allora creare un costruttore vuoto quindi note e poi crea un costruttore dunque lo creiamo lo facciamo creare l'ambiente quindi andiamo dentro source e gli diciamo e diciamo genera costruttori dal campo ai campi ok? scelgo title e content title e content mi serve anche l'edit vediamo e poi genero quindi in questo caso mi ha generato un costruttore che fa quello che deve sostanzialmente non mi serve altro questa classe viene già sistemata adesso siccome abbiamo già avviato una volta dalla boot dashboard il progetto vedete che qua compaiono anche le configurazioni che mi ha creato l'ambiente adesso basta che la faccia ripartire faccio rilancio salviamo rilancio sta riavviando l'applicazione vediamo se tutto va a buon fine l'applicazione è andata a buon fine possiamo andare a vedere nel nostro database se è successo qualcosa nel db notes vedete qua dentro nel database c'è una tabella note e una tabella hibernate sequence che serva di hibernate per fare le sue le sue operazioni questa tabella note contiene cosa questo è un errore di php lasciamo ottiene contiene un id content e title cosa sono id content e title siamo posti abbiamo già messo a punto la mappatura adesso dovremmo preoccuparci di eh costruire interfaccia via web e poi accedere a queste mappature dall'interfaccia web perché abbiamo creato la nostra entità possiamo andare a creare il nostro controller ma prima di tutto dobbiamo riuscire a creare quella interfaccia attraverso la quale il nostro controller potrà poi andare ad accedere o interagire diciamo con il con il database per far questo creiamo un nuovo file che in realtà è una nuova interfaccia la nostra interfaccia si chiamerà note repository questa note repository cosa fa? estende un'altra interfaccia che è la crude repository che è un'interfaccia di springboot e ci dice che tipo di oggetti manipolo note di che tipo di dati è la chiave l'id long l'abbiamo definito prima qua l'abbiamo definito qua l'id è long e la classe è la classe note che era un'entità ah ci manca un pezzo per poter manipolare l'oggetto dobbiamo introdurre l'omboc con una notazione data in automatico questa notazione data di l'omboc ci crea get resetter per tutte le proprietà e siamo a posto l'interfaccia paradossalmente è vuota non dobbiamo implementare nulla sarà hibernate che si preoccuperà di andare a creare tutti i metodi che possono servire poi al nostro controller adesso dovremo andare a creare il nostro controller e vedere di mettere assieme tutti i pezzi creiamo una classe la chiamiamo note controller ok questa è un controller di che tipo è un controller rest quindi è un rest controller è una notazione questa sempre di spring questa serve alla classe principale per caricare questo componente runtime e in modo automatico non dobbiamo registrarlo da nessuna parte fa tutto lui una cosa particolare è che vogliamo impostare il repository adesso qua sul repository dovrei scrivere una cosa da tipo private final note repository note repository note repository e poi nel costruttore note controller gli passo note repository note repository repository diciamo in implementazione che note repository uguale repository ok qua praticamente ho collegato quell'interfaccia un'implementazione di quell'interfaccia che farà springboot con il mio controller adesso la prima mappatura è quella che si recupera è una mappatura di tipo get quindi get mapping e recupereremo notes tutte le note e questo abbiamo public ma qui ci basta in realtà ritornare allora qua ritorniamo così una lista di note get all get notes ok in questo caso allora cosa succede qui ah non ho importato get mapping ok non ho importato neanche list immagino e da java utile non le altre e get notes non ho cosa che mi manca ah non ho il return statement un attimo return note repository punto vedete che ci sono un sacco di metodi vedete adesso si un sacco di metodi equals find all find all by d find by d è un sacco di metodi che noi non abbiamo scritto ma che ci ha generato springboot in particolare gpa io recupero find all quindi così sto dicendo recuperami tutti tutte le note e qua mi dice si lamenta dice questa in realtà non è una lista è un iterable va bene che iterable sia allora abbiamo fatto in modo abbastanza lineare quello che dovrebbe essere la nostra applicazione che recupera tutte le note presenti adesso proviamo a a eseguirla ok la porta è 8080 quella in cui sta in ascolto la nostra applicazione quindi facciamo 127 001 due punti 8080 qua è un errore ovviamente perché non abbiamo nessun ascolto dello slash siamo in slash notes esatto questa è una lista vuota la cosa interessante è che noi non abbiamo serializzato niente a mano ma la serializzazione la fa in automatico springboot giusto perché noi stiamo ritornando un iterable molto bene adesso per poter vedere che queste note esista davvero dobbiamo andare a creare una nota come facciamo a creare una nota allora per creare una nota noi sappiamo che dobbiamo fare una post nei servizi rest sulla collection quindi facciamo post mapping e ci mettiamo notes quindi tutte le volte che viene fatto un post a questa URI viene invocato questo metodo questo ritorna una nota sarà create note e come faccio a a capire qual è la nota che sto creando devo utilizzare una annotazione nel campo dicendo request body vuol dire che questo parametro viene ripreso il suo valore viene preso dal body della richiesta e vabbè e note e note new note sto creando una nuova nota questo request body non l'ho incluso ovviamente e non c'è il return nessun attimo lo creiamo allora cosa facciamo return note repository posso fare punto save e non grande quel piccolo punto save cosa salva la nuova nota save ritorna poi la nuova nota che ha inserito ok quindi l'idea è che se noi nel body mandiamo il valore di una nuova nota questa viene eseguita molto interessante adesso dobbiamo testarla come facciamo per testarla allora possiamo utilizzare ad esempio postman e vedere di caricare la richiesta allora ho avviato postman adesso proviamo a fare la nostra richiesta di tipo post l'urie è http 127.001 8080 slash notes questa è la nostra richiesta adesso nel body all'interno qua usiamo fondata raw binary negli headers dovrei avere anche content length accept encoding me ne mancano tipo content type content type mettiamo application json quindi diciamo che il body è scritto in json quindi mettiamo raw ah c'è gson che già lo prende e cosa mettiamo mettiamo title titolo della nota e poi mettiamo content contenuto della nota questa è la richiesta che voglio mandare al mio server adesso facciamo dove è che è send e ne inviamo metodo not allowed interessante ah probabilmente perché non ho riavviato il metodo not supported exception ah si metodo post not supported no 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 non ho riavviato l'applicazione ok vediamo vediamo sarebbe avviato adesso rifaccio send ok lo status è ok adesso adesso posso fare un'altra richiesta una getta http così non sto lì a riscrivere le cose faccio l'invio non funziona proprio direi bene nel senso che non ha creato l'oggetto poi cioè lo ha creato ma vuoto adesso proviamo a lanciare il processo di debug questo è terminato ok ho messo un breakpoint qua sulla riga 26 quindi adesso dovremmo vedere qua faccio il send del post esattamente si è bloccato e faccio lo switch lo switch mi attiva la vista di debug sono qua la mia new note ha tutto null e questo non funziona però ho creato la nota in effetti c'è qualcosa che non funziona con l'onbook devo dire molto probabilmente e non vorrei che sia qualcosa che ha a che fare con con eclipse vediamo proviamo a vedere togliamo l'onbook un attimo e facciamo creare get resetter all'ambiente quindi source generate get resetter e scegliamo content title e anche facciamo ok questi ci sono facciamo restart perché non si può rimpiazzare il codice mentre si è in run non sempre almeno in questo caso no allora questa è in ascolto rifacciamo una send e la new note ha il titolo e ha il contenuto va benissimo abbiamo era proprio un problema di l'onbook allora vabbè e notate l'importanza di fare debug qua altrimenti è veramente terribile qua adesso viene salvata possiamo andare avanti se andiamo a vedere nel nostro database ok c'era la nota 1 che è quella con null e null ma che è quella generata prima quando abbiamo sbagliato e questa invece è l'ultima che ho generato che è corretta cioè contenuto della nota e titolo della nota perfetto adesso quindi ci basta quindi abbiamo dovuto togliere l'onbook ma sono da indagare sono importante che funzioni se vado a prendere adesso dentro a postman la richiesta get e la eseguo questa mi darà due note una con titolo e contenuto nulla ma che è quella sbagliata e poi l'ultima che ho inserito correttamente col su id questa mi consente di gestire diciamo la il recupero dei dati questo get il post adesso poi vorrei poter chiedere ad esempio di recuperare il singolo elemento va bene per recuperare il singolo elemento cosa faccio? qua devo aggiungere sempre un get mapping di notes slash id il parametro lo metto tra graffe ok questo get note e gli devo passare il parametro dicendo che il parametro lo recuperi dal path quindi sarà una path variable ok e sarà un long id o noti di così lui cosa che dovrà fare? dovrà dire ok recupero la singola nota quindi faccio note repository punto c'è find by id find by id gli passo il note id punto questo ritorno optional e in realtà potrebbe essere un valore oppure un nulla ok e allora posso fare usare l'or else throw questo mi genera una un'eccezione e qua dovrei crearmi la mia eccezione oppure posso posso dire così lancio un such element exception va bene va bene devo fare restart ovviamente del debug ah no c'era manco un pezzo no perché non torna l'iterable note ma una note e basta chiaramente ma devo fare restart perché sto tornando una singola nota ok quindi pad variable mi dice che lo recupero nell'id è sbagliato quello che ho scritto devo mettere qua dentro note id se no devono essere uguali i nomi altrimenti non funzionano quindi rifacciamo doppiamo e facciamo ripartire adesso se vado nel postman questa vediamo se posso duplicarla duplica tab notes e ci mettiamo 2 che è la seconda nota faccio send e mi recupero i miei dati quindi in questo modo abbiamo anche una singola nota che viene recuperata mettessi 3 che non c'è mi genera un internal salver error che è il riscontro dell'eccezione lanciata questo è molto comodo abbiamo praticamente già fatto un sistema che controlla ritorna comunque un gson nel caso di errore e abbiamo praticamente implementato quasi tutto quello che ci serve diciamo che la cancellazione è la stessa cosa di quest solo che dovrà fare un delete quindi chiederò al nostro repository di fare un delete e l'update ti invito di provare a farla quindi l'idea è quella di avere non più una post ma una put in questo caso a cui passerò comunque dal body un oggetto e questo dovrà aggiornare l'oggetto del database vediamo adesso come fare a aggiungere la possibilità di andare a modificare una nota e andare a cancellarla vediamo un attimo come si fa allora innanzitutto l'aggiornamento corrisponde ad un'operazione di tipo put quindi facciamo un put mapping note notes slash immaginiamo che la chiamiamo id o note id come abbiamo fatto prima ok adesso il dobbiamo creare il nostro metodo ritornerà la nota aggiornata update note cosa cosa gli passiamo gli passiamo sicuramente la pad variable come ben già fatto non è un'operazione non è un'operazione che fa la giornata ok fa il variable long note id ricordati che devi chiamarla con esattamente con lo stesso nome che data il mapping e poi avremo invece dal dal body quindi request body note diciamo note dto data transfer object nel senso che contiene i dati ma non rappresenta veramente una nota nel nostro nel nostro database quindi parleremo di queste cose nelle prossime le prossime lezioni put mapping devo aggiungerla ok l'update note è sui lamenta perché non ritorna un valore e adesso proviamo a recuperare la cosa punto vediamo un po' mh devo fare esattamente questa operazione quando recupero la nota per i suoi id quindi faccio note note to update è uguale a questa cosa quindi la recupero dal dal database oppure lancio un'eccezione che verrà rappresentata dal client con un errore 500 è chiaro che dovremmo gestirla meglio per adesso ci basta potrei mettere un try catch e lanciare un'eccezione che abbia invece senso nel mio dominio allora adesso dobbiamo andare a recuperare i valori quindi i valori non di dio ce li abbiamo già qua la nota del giornale ce l'abbiamo già qua a questo punto mettiamo assieme le cose quindi note to update punto set title il title sarà note to punto get title allo stesso modo note to update punto set content e note to punto get content l'id non lo vado a aggiornare non si possono aggiornare l'id questo è fatto adesso dobbiamo dire semplicemente a repository note repository punto save qual è? la note update gli diciamo salvala e ritornala però possiamo dirgli direttamente a return perché abbiamo visto che ritorna direttamente quello che ha salvato ok perfetto abbiamo fatto la modifica adesso verifichiamo che la modifica funzioni allora per fare i test utilizza postman puoi utilizzare qualsiasi client http in realtà non c'è una grande differenza allora prendo questo get anzi facciamo il post lo duplichiamo lo facciamo diventare un put e nel body andiamo a vedere qua c'era contenuto della nota metto aggiornata aggiornata ok notes però put ha bisogno di chi gli passi anche il numero della nota da aggiornare ad esempio mettiamo la 2 quindi così faccio una put gli passo i dati con cui voglio aggiornare la nota 2 e lui mi dovrà ritornare la nota aggiornata adesso dobbiamo però come abbiamo fatto far partire l'applicazione di springboot quindi andiamo nella spring dash qua e clicchiamo col destro sulla nostra sulla nostra applicazione facciamo restart se vuoi fare debug fare debug e quello ti consente fare debug adesso lui sta partendo ok ci siamo se io faccio send ecco qua mi ha aggiornato la nota tant'è vero che se rifaccio la get mi ritorna la nota con il contenuto aggiornato quindi è stato molto molto facile guardiamo la delete come sarà la delete la delete si tratta di prendere sostanzialmente questa operazione la get invece faremo una delete mapping ok avrà qua non sarà più get note ovviamente perché è già definito il metodo ma sarà delete note ok find by questo facciamo quindi note note uguale a questo ok poi adesso facciamo note delete in realtà non ci serve ritornare alla nota perché se l'abbiamo cancellata e facciamo repository note repository note repository appunto c'è delete gli passo la nota da cancellare e a questo punto questo è un momento da void in realtà quindi non ritorna nulla potrebbe essere che magari si verifichi qua se dovesse non trovare l'unica situazione di errore è che non trovi la nota quindi sbaglio a passare un id in quel caso lancio un'eccezione comunque quindi mi ritornerà un errore adesso facciamo riavvio facciamo riavvio potete chiusare anche il bottone che c'è ah non lo vedete facciamo così sempre così restart questo lo stop e lo riavvia poi ok quindi vado a postman voglio cancellare la nota 1 quindi faccio prendo questa e la duplico posso fare la richiesta delete voglio cancellare la nota 1 non mi serve niente altro faccio send che ritorna 200 quindi sono a posto se vado a fare una get di note adesso dovrei non vedere più la nota 1 esattamente quindi siamo riusciti veramente con poche righe di codice scrivendo poco codice e codice ordinato utilizzando e sfruttando springboot a creare un piccolo crude un piccolissimo crude per una gestione delle note non abbiamo il frontend perché in fondo noi abbiamo utilizzato json quindi il nostro web service ritorna json e un web service rest questo ci consente di utilizzare il frontend che vogliamo react view javascript liscio un'applicazione java stand alone un'applicazione c sharp tutti i linguaggi che hanno un client http possono interagire con la nostra api potrei avere anche un'altra api che interroga questa per poi fare delle elaborazioni quindi è molto potente come cosa ok detto questo questo esempio completo si chiude e ti auguro di avere più o meno capito insomma se non hai qualcosa che non ti è chiaro commenta pure se non ti sei iscritto al canale fallo e grazie per aver guardato e alla prossima ciao ciao